Siamo a Lecce, in via Augusto Imperatore, ad una e cinquantina di metri dalla centralissima piazza Santo Ronso. Proprio qui era posizionato uno dei tanti defibrillatori presenti in città, scomparso, dissolto nella nebbia dell'incuria, come tanti altri dispositivi dello stesso tipo. Un'occasione sprecata. Eppure l'obiettivo era lodevole e di notevole rilevanza, realizzare una rete capillare di defibrillatori semi-automatici esterni che in caso di arresto cardiaco possono scongiurare la morte della persona colpita, anticipando i tempi della rianimazione cardiopolmonare e della defibrillazione da parte di una unità medica. Poter intervenire prontamente nel giro di pochi minuti significa fare la differenza tra la vita e la morte. Nel primo anno abbiamo salvato quattro persone perché attraverso la rete di pronta disponibilità dei defibrillatori ed anche del personale addetto sono potuti intervenire prontamente. Diamo la mappa dei defibrillatori al momento esistenti. La differenza tra il verde e il rosso qual è? Sono due le differenze. La prima può essere che in questo momento, come effettivamente è in questo momento, al poligolo di tiro, gli orari comunicati dal poligolo di tiro non danno la disponibilità del defibrillatore. O in altri casi perché magari manca proprio l'informazione, cioè non ci ha mai mandato l'informazione. Negli altri casi invece sono verdi perché vuol dire che il conservatorio Tito Schipa ha dato della disponibilità di questi defibrillatori. Gli automobilisti che fanno il loro ingresso nel capologo salentino trovano ancora un enorme cartello riportante la scritta Lecce Città Cardioprotette. Peccato che a distanza di qualche anno il progetto sia desolatamente e colpevolmente caduto nel dimenticatoio. Mettere 140 defibrillatori in una città come Lecce è molto piccola. È un sistema in cui siamo stati leader in Italia per diverso tempo. Grazie a questo sistema si possono generare microeconomie. Non è soltanto per la salute, non è soltanto il fatto di sapere che c'è un defibrillatore e io sono un volontario, intervengo e faccio il massaggio cardiaco. È anche una questione di business perché se io sono un rivenditore di defibrillatori e so che sono scaduti o sono collocati i defibrillatori attorno a me, vado a proporre la sostituzione, vado a proporre un aggiornamento, ne vado a vendere due. Cioè può anche creare una microeconomia. Cioè può anche creare una microeconomia. Grazie a tutti